Quello sanitario, quindi che ad oggi non è possibile attuare, quindi fate cadere un PEF che non tiene in piedi tutta l'operazione, aspettiamo che la regione faccia alcune verifiche, stiamo aspettando un loro comunicato al quale poi daremo seguito al nostro comunicato. Quindi il parere favorevole con prescrizione, però questa prescrizione è tutto in fatto. La prescrizione, il parere favorevole, la prescrizione tiene in piedi però tutta l'operazione e di per sé diventa per noi abbastanza problematico ad oggi. Poi nel verificare alcune situazioni che la regione dovrà verificare, vedremo poi appunto un passaggio cardine e sarà ora quello che la regione dirà e da lì capiremo un po' il proseguimento. La verifica della regione significa prevedere l'esistenza della clinica in un piano sanitario regionale? Non posso prevedere quello che adesso vorrà fare e dire la regione e la Presidente, insomma aspettiamo le loro dichiarazioni e in base a quello capiremo il da farsi. Avete già pronto un piano B, vista che la strada era già complessa prima, dopo oggi, ok il parere favorevole però in linea di massima ci pare di intuire che dipende tutto da... Il piano B per il momento non c'è e una di queste prescrizioni è il venir meno della clinica come elemento di equilibrio economico finanziario. Ad oggi possiamo costruire lo stadio ma senza clinica, secondo lei, interpreti di lei se è una cosa positiva o meno. Va bene, grazie. Grazie.